Sbarre abbassate e confine blindato contro ladri e criminali transfrontalieri. Una chiusura sperimentale per sei mesi, ma tanto è bastato perché la decisione sollevasse un polverone. A partire da domani, primo aprile, il Ticino ha deciso di chiudere di notte dalle 23 alle 5 tre valichi secondari al confine con l'Italia. Novazzano-Marcetto, Pedrenate e Ponte-Cremenaga, distribuiti tra le province di Como e Varese. Tra referendum e campagne antifrontalieri, ora la battaglia si gioca sulla questione sicurezza e sembra attribuire all'Italia, se non tutta, almeno una parte della responsabilità dell'emergenza furti oltre confine. Il progetto, definito pilota, è conseguenza diretta di una mozione presentata dal consigliere nazionale leghista e vice sindaco di Chiasso, Roberta Pantani. L'obiettivo, espresso dal documento, non è fraintendibile, attuare misure adeguate al fine di aumentare sensibilmente la sicurezza nel cantone. L'idea è stata mal digerita dai sindaci italiani, nessuno li ha avvisati o coinvolti nel processo decisionale. Hanno denunciato, sottolineando come la sicurezza non si ottenga chiudendo le frontiere, soprattutto quando si parla di furti, crimini che, spiegano, raramente vengono commessi la notte. La questione, nelle scorse settimane, era stata discussa in un vertice a Bellinzona, tra una delegazione del Consiglio regionale Lombardo e il Gran Consiglio del Ticino a Bellinzona. Fortissime le perplessità sollevate dal consigliere democratico Luca Gaffuri, una decisione unilaterale accusa, verso cui abbiamo sottolineato fortissime perplessità. Si tratta comunque di un provvedimento a tempo, aspettiamo, conclude, che il Ticino ci comunichi le proprie conclusioni a fine sperimentazione.